Buon pomeriggio, benvenuti a tutti alla seconda puntata del format Una certa idea di futuro. Uomini, società e territori in un mondo che cambia. Un'iniziativa bellissima nata dalla collaborazione tra Confindustria Trento, in cui siamo in casa in questo momento, diciamo come vedete, e l'università ovviamente anche di Trento. Un'occasione particolare per toccare temi importanti, come avete visto dalla prima puntata, ma anche e soprattutto con la seconda, con un ospite prestigioso, ormai è su tutti i giornali e nei siti, Alberto San Giovanni Vincentelli, diciamo, è con noi, ma ci arriveremo pian piano. Come ho appena detto, siamo in casa, diciamo, di Confindustria. Ricordo anche ai presenti e collegati, che ho visto che sono numerosi, Presidente, abbiamo già superato il numero della prima puntata, che c'è anche la possibilità con la chat di fare eventuali domande ai nostri relatori. Non vorrei perdere nessun minuto per recuperare quelli che abbiamo perso nel contatto iniziale e do la parola al Presidente Manzana per il saluto iniziale. Buon pomeriggio, buon pomeriggio anche da parte mia e auguro a tutti voi un'ora e mezzo, due, di piacevole incontro con questa nuova puntata, con questo nuovo passo. Io osservo soltanto una cosa, la contraddizione in termini presente nel titolo di questa nostra puntata odierna. Il ruolo dell'innovazione nel nuovo normale, nel nuovo normale, quando normale si riferisce al passato, un nuovo normale che questa pandemia ci obbliga a vivere. Ascolteremo il nostro ospite, il professor Vincentelli e con lui cercheremo di capire come vivere questo nostro prossimo futuro. Io ringrazio in modo particolare gli artefici Vice Presidenti Stefania Segatta e Marcello Lunelli che hanno seguito e condotto tutti i passi per arrivare a questa trasmissione odierna e lascio la parola al nostro Alessandro. Troppo gentile, grazie Presidente. Ha toccato una cosa interessante, volontariamente o involontariamente, leggendo il titolo, lei ha toccato Presidenti un tema importantissimo che piacerà al nostro ospite nel tema del lateral thinking, del pensiero laterale, del pensiero divergente, perché il tema della contraddizione che lei ha notato è importantissimo per l'innovazione. L'innovazione si ricerca e si stimola proprio avendo paradossi e contraddizioni intorno. Quindi la sua osservazione la condivido anche personalmente col mestiere che faccio. E regia, credo che possiamo fare, sapendo che abbiamo il collegamento col format nell'altra stanza, una panoramica, perché come sempre nella sala di presidenza di Confindustria, assieme al direttore Roberto Busato, che saluto, sono presenti l'assessore Achille Spinelli, il prorettore Flavio De Florean, Stefania Segatta, già citata, e Marcello Lunelli, e anche Alfredo Maglione del consiglio di presidenza dell'associazione, che saranno poi i nostri partner nelle domande e nella discussione. Vedo che la panoramica c'è perfettamente, la nostra tecnologia è perfettamente funzionante. Abbiamo una piccola slide con pochissimi degli incarichi del nostro ospite. Chiedo alla regia di poterla mandare in sovraimpressione, perché se dovessimo leggerli tutti, la puntata sarebbe finita, anche se il Presidente ci ha dato un po' di immagine, ha parlato di un'ora e mezza, due, insomma cerchiamo di stare ovviamente entro l'ora e mezza. Però, a parte la battuta, mi pare che il modo più corretto, essendo anche un rapporto accademico di università, dare la linea al nostro amico prorettore, quindi alla professora De Florian, per introdurre in un modo più degno di come saprei, diciamo ovviamente indegnamente fare io, il nostro ospite dal punto di vista accademico. Quindi De Florian, a te la linea. Grazie, grazie dell'introduzione. Certamente il Professor San Giovanni Vincentelli è una figura di primissimo piano, sia da un punto di vista accademico che dal punto di vista delle iniziative imprenditoriali che ha riuscito a portare sul mercato. Da questo punto di vista credo che sia veramente la persona giusta per parlare dei temi di cui oggi ci occupiamo, del tema di oggi. Da parte mia c'è anche un saluto appunto a nome dell'università che ha collaborato all'organizzazione di questi eventi, anche cercando di dare un contributo nella scelta dei relatori e quindi sono particolarmente contento del relatore che abbiamo oggi. Anche per me è difficile e quindi in qualche modo schivo il compito di fare una biografia completa di San Giovanni Vincentelli perché ci porterebbe via forse tutta quell'oretta e mezza, due che il Presidente Manzana ci ha indicato, ma credo che valga la pena sottolineare un aspetto che mi sembra importante. Il Professor Vincentelli non solo è uno scienziato di fama internazionale, è un accademico molto conosciuto ed è un imprenditore di successo, ma conosce anche molto bene il nostro territorio. Ha un legame con il territorio trentino che frequenta da tempo ed ha anche un legame con l'università. So che è collegato con noi il direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale, il collega Dario Petri, che conosce anche meglio forse di tanti altri miei colleghi personalmente, il Professor Vincentelli e al quale, se la regia riuscirà poi a collegarsi, vorrei chiedere la cortesia, se ci vuole un po' spiegare qual è stato il contributo che il Professor Vincentelli ha dato, in particolare all'evoluzione, allo sviluppo del Dipartimento di Ingegneria Industriale. Molto volentieri, buonasera a tutti intanto. Ormai abbiamo collaborazione con il Professor Vincentelli da una ventina d'anni. Con lui abbiamo organizzato sia eventi scientifici, scuole estive per dottorati, ma anche abbiamo uno scambio di ricercatori e di dottorandi tra Trentino e Berkeley. In particolare con la nascita del Dipartimento di Ingegneria Industriale, abbiamo invitato il Professor Vincentelli a essere Presidente del nostro Advisory Board, con cui definiamo le strategie del Dipartimento. Ad esempio c'è stato molto prezioso il suo aiuto quando abbiamo valutato e redatto il progetto per il Dipartimento di Eccellenza sul bando del Ministero, tre anni fa, o recentemente anche quando abbiamo definito una nuova laurea magistrale in Ingegneria dei Sistemi e Gestionale, che contiamo di attivare l'anno prossimo. Grazie Dario per questo contributo. Direi che siamo tutti impazienti e curiosi di sentire il Professor Vincentelli, quindi passo la parola al nostro gentile coordinatore. Grazie molte Professore, siete stati bravissimi e perfetti anche nei collegamenti. Cosa dire? Io ho questo ruolo di coordinamento anche tecnologico, oltre che nei materiali. Chiedo alla regia se il Professore è collegato con noi, è già in finestra o come si dice nel gergo è al balcone, che in qualche modo ci sta guardando. Carissimo Alberto, ben trovato, ti vedo perfettamente in forma. Non ti rubo nessun minuto, grazie a te, e ti do immediatamente la parola. Spiego solo che ci saranno tre momenti che passiamo con te. Il primo momento in questo format è questa tua riflessione e conferenza sul tema del ruolo dell'innovazione nel New Normal e come ha fatto notare appunto il Presidente New Normal, che è un po' particolare, quindi ci racconterai il tuo modo di vederlo. E poi a seguire ci saranno due brevi, lunghi, dipende ovviamente dal tempo che dobbiamo gestire, piccoli momenti di interviste con alcune mie domande fatte sia a te, su due tematiche un po' differenti, anche ai nostri ospiti. Non rubo altro, Alberto, a te la parola. Grazie molto Alessandro e grazie di avermi invitato a questo evento. Trento è sempre stata cara al mio cuore anche per i magnifici vini che voi avete portato per la splendida di paesaggi e le persone squisite, quindi è con grande piacere che ho accettato l'invito di fare questa presentazione. La mia presentazione verterà su diversi punti, ma naturalmente il punto principale è quello del New Normal, al cosiddetto, cioè con il nuovo normale. Cosa vuol dire il nuovo normale? In realtà il nuovo normale spiega che quello che noi siamo abituati a considerare il normale non è più, e quindi c'è qualcosa che è cambiato fondamentalmente e profondamente. E quindi noi diciamo the new normal. Sono questioni che dobbiamo pensare attentamente a quali sono le implicazioni, sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista industriale. La cosa che mi preme far vedere è questo piccolo video che vedete ora, che rappresenta un po' quello che tutti noi ci siamo trovati di fronte, una distruzione totale. Infatti questo è il problema, cioè che tutti i nostri piani, i piani industriali, i piani della società, sono stati completamente distrutti, se vogliamo, da questo evento, il Covid-19. Abbiamo visto che c'è indubitabilmente una crisi industriale profonda, ma in questa crisi industriale profonda ci sono vincitori e perdenti. Infatti se guardiamo il mercato azionario, ci sono alcune compagnie, su quelle indicate in verde, che hanno avuto un'accelerazione notevole durante proprio il periodo del Covid. Infatti se vedete Apple è raddoppiato, più che raddoppiato, Amazon è raddoppiata, Google è cresciuto da una volta e mezzo e Cadence, che è una delle compagnie che ho fondato, è quasi triplicata anch'essa. E queste sono compagnie che sono caratterizzate da tecnologia, cioè fondamentalmente radicati nell'innovazione. Se noi andiamo a vedere quando queste compagnie sono nate è abbastanza impressionante, perché per esempio Cadence è partita 30 anni fa, no anzi ormai quasi 40, ma Google è partita 25 anni fa. Quindi sono compagnie oltretutto relativamente giovani rispetto a quelle tradizionali. Se vediamo al General Motors in realtà l'effetto del Covid ha fatto perdere valore, anche se nella sua interezza il mercato azionario ha visto i massimi storici proprio in questo periodo. Allora anche qui bisognerebbe chiedersi, ma come mai se l'economia ha subito una brutta botta? Perché sappiamo tutti che la perdita del lavoro, soprattutto negli Stati Uniti, è arrivata a una punta il mese scorso che non toccava dall'epoca della grande recessione, quindi parliamo degli anni 30 e sappiamo che disaster aveva combinato quel tipo di situazione. Quindi come mai il mercato azionario non riflette questa situazione? Allora, da un lato c'è una situazione per virgolette congiunturale, la congiuntura è che negli anni passati tutte le imprese, ma anche le banche, gli investitori, eccetera, hanno accumulato ricchezza, ci sono tanti soldi in giro e soprattutto nei momenti di crisi bisogna decidere dove investire questi soldi. E le compagnie ad alta tecnologia, secondo le analisi di direi quasi tutti, sono quelle che hanno maggiore resilienza, sono quelle che hanno la probabilità di non cadere durante questo periodo, anche perché le compagnie di alta tecnologia di solito sfruttano al massimo la digitalizzazione, quindi l'utilizzo del digitale e che quindi come tale non richiede la presenza delle persone in stretto contatto, il che porta appunto a questo, diciamo così, modo di reagire alla pandemia che è più normale, tra virgolette, rispetto alle altre. Dall'altra parte c'è anche gli interventi dei governi che hanno pompato molti, molto denaro per tenere a galla il mondo, se vogliamo. E un effetto di questo influsso di denaro è quello di portare un fondamentale ottimismo nel futuro e quindi come tale fidarsi di quello che le compagnie più avanzate ci fanno vedere. Questo è un interessante diagramma che è stato presentato da Google, che ha fatto un'analisi delle richieste sulla piattaforma Google. Vediamo che gli hotel sono praticamente andati a zero, così come i ristoranti, i voli, gli aeroporti, il turismo, i musei, mentre invece le piattaforme tipo Zoom hanno avuto uno spike notevolissimo, così come la catena logistica della distribuzione dei prodotti. Quindi c'è questa tendenza naturalmente, perché se siamo costretti a stare in casa è ovvio che agli hotel e ristoranti hanno subito una caduta verticale, ma la cosa interessante che fa paura è il fatto che questi cambiamenti probabilmente rimarranno o almeno in parte rimarranno, perché abbiamo visto che anche senza viaggiare, anche senza avere i meeting di persona, tutto sommato le cose possono andare avanti dal punto di vista lavorativo e quindi dato i costi dei viaggi e dato anche il peso che le persone che viaggiano si trovano davvero anche in termini di relazioni con la famiglia, di fatica fisica, hanno trovato questa situazione creata dalla pandemia non del tutto negativa. Naturalmente ci sono sempre la necessità di avere incontri tra virgolette fisici con le persone, perché attraverso il contatto umano ci sono modi di comunicare che vanno al di là del fatto del video e della voce, ma che vanno da potersi per esempio abbracciare, da potersi cambiare delle idee estemporanee che hanno anche importanza dal punto di vista proprio del nostro benessere, quindi l'innovazione paga di solito in tempi non certi, infatti si dice che in sei mesi c'è stata un'accelerazione di cinque anni o di più nel modo di far business nelle compagnie, quindi c'è un'evoluzione normale naturalmente dell'innovazione che è sempre con noi, ma il fatto di avere questa crisi ha creato il bisogno di un'accelerazione sull'innovazione, perché il modo di fare business che era comune negli anni passati non si può più implementare, quindi bisogna spingere sull'acceleratore, infatti vediamo che globalmente da un'adozione della digitalizzazione che è andata nel maggio a giugno del 2018 di un fattore 20 diciamo così, nel 2020 siamo arrivati a 58 con un passaggio nel dicembre del 2019 di 36, quindi da 20 a 58 è quasi triplicato, ma lo stesso tipo di diagramma si vede in Asia, in Europa e naturalmente in Nord America dove è ancora più spiccata questa tendenza alla digitalizzazione e quindi questo è senz'altro un fattore che dobbiamo tenere presente, quindi l'impresa del futuro sarà molto più digitale di quella che è adesso, che è una previsione abbastanza comune, nel senso che tutti quanti abbiamo sempre pensato che l'impiego massiccio delle tecnologie digitali avrebbero portato a una migliore efficienza delle imprese, la cosa che è cambiata è la velocità con cui questo succede, per cui non c'è più tempo, quindi non possiamo più permetterci di pensare troppo, quindi dobbiamo agire e questo è un problema ritengo che ho visto comunemente in Europa, non solo in Italia, in generale in Europa si tende ad essere più cauti, ad avere più interesse alle imprese di stampo tradizionale rispetto a quelle innovative e quindi come tali dobbiamo pensare che forse è il momento anche noi di accelerare da un lato l'introduzione digitale nelle nostre imprese, ma anche dall'altro di vedere quali nuove imprese si creano e queste nuove imprese di solito si creano basate su delle idee che magari sono abbastanza tra virgolette vecchie dal punto di vista della ricerca, dal punto di vista accademico, ma che non hanno ancora avuto quel grip, quella presa nel settore industriale comune. innovazione, quindi vediamo un attimo però che cosa intendo come innovazione, innovazione non è soltanto inventare, non è un'invenzione l'innovazione, l'innovazione è portare un'idea nuova, un modo nuovo di fare le cose sul mercato, quindi c'è questo aspetto economico estremamente importante. Troppo spesso si legge che innovazione uguale a invenzione e non è così, di solito al meglio passano dieci anni da quando uno ha avuto la prima idea all'eureca al momento in cui questa eureca si traduce in dobloni o comunque in imprese che partono. Faccio il mio caso particolare, la mia prima impresa è partita nel 1983 Cadence, ma le ricerche datavano 1975, in questo caso particolare visto che il nostro lavoro era di tipo software, ci è voluto meno tempo, ma se vado a vedere per esempio l'innovazione dal punto di vista della tecnologia dei circuiti integrati, dall'invenzione della nuova struttura di transistor che si chiama FinFed, al momento in cui Intel ha cominciato a utilizzarlo sono passati 15 anni, quindi a seconda del settore in cui voi siete c'è una certa latenza prima di arrivare sul mercato. E però non tutte le iniziative che portino idee sul mercato hanno successo, infatti l'innovazione buona è molto rara e molto spesso le imprese falliscono, quindi bisogna tenere presente che su 100 compagnie che partono quelle che poi hanno un successo misurabile sono meno del 5%, poi quelle che hanno grande successo sono addirittura probabilmente una su mille e quindi dobbiamo anche renderci conto che non è vero quello che si dice che le start up sono sempre il motore delle imprese, non è necessariamente vero, sono un fattore importante ma non sono tutto e l'innovazione non può succedere soltanto nelle piccole imprese, nelle start up, deve essere anche in qualche modo trovata e inglobata nelle imprese di grandi dimensioni che è un po' il motore classico di sviluppo in Silicon Valley, infatti qualcuno di voi si ricorderà di altri miei interventi, per me che amo la cucina oltre che ai vini come vi ho detto, l'innovazione è come un tartufo e sottolineo tartufo bianco perché in realtà il tartufo nero si può sotto certe condizioni coltivare ma il tartufo bianco no, quello che bisogna fare per il tartufo bianco bisogna avere qualcuno che lo sappia scoprire e il tartufo viene per i fatti suoi, non c'è nessuno che può mettere il seme per terra e poi puf salta fuori il tartufo e sappiamo che ci sono solo particolari regioni dove il tartufo cresce e prospera e non solo ma dobbiamo anche essere molto attenti a trovarlo, levarlo dal tessuto, dal territorio ma stare anche attenti a non rovinare il sistema ricchissimo di radici, chiamiamo le radici di filamenti che sono sottoterra e che danno vita nel futuro ad altri tartufi, quindi in un certo senso se voi andate a vedere qual è il ruolo sia delle imprese di grandi dimensioni che non hanno la capacità di innovare in modo veloce e dei venture capitalist è proprio quello del cane da tartufo, cioè di andare a grufolare perché non si trova quell'idea che effettivamente ti dà la marcia in più, quindi questo vuol dire che stiamo attenti a non over pianificare perché pianificare non è un modo per creare innovazione, quindi bisogna creare un ecosistema che dà la possibilità ai tartufi di nascere e bisogna trovare anche le persone o gli animali che siano in grado di trovare questi tartufi. In particolare se io vado a vedere Silicon Valley, che cos'è che ho imparato in Silicon Valley? Beh che insomma il Silicon Valley dal punto di vista industriale è un po' la foresta del Brasile, la foresta amazonica, nel senso che c'è di tutto e di più, non ci sono solo le piccole imprese perché spesse volte uno dice va bene io faccio un distretto di innovazione con tante start up e poi ti guardi in giro ma sono start up nel deserto e questo naturalmente non può vivere da solo, ha bisogno dei grandi animali e delle grandi piante, ha bisogno di un ecosistema ricco e quindi come abbiamo detto prima c'è l'ecosistema che dà modo al tartufo di nascere e poi questo tartufo in realtà nasce quando sono presenti tante realtà insieme, tante più realtà sono presenti tanto più il sistema è resiliente, non so se voi avete letto articoli su articoli che dicono la Silicon Valley è morta, io questo tipo di articoli li ho cominciati a leggere quando sono andato a Berche nel 1975, adesso siamo nel 2020 e non mi pare che Silicon Valley sia morta manco per niente, ma perché? Perché è resiliente e quindi si reinventa costantemente, quindi la possibilità di reinventarsi è fondamentale ma c'è anche la possibilità di crescere, la necessità di crescere perché nessuna piccola impresa fondata da Silicon Valley vuole rimanere piccola, cioè l'afflato delle persone che fondano un'impresa almeno là è quella di diventare la prossimo Google, il prossimo Amazon, il prossimo Facebook, crescere, quindi diventare una grossa impresa, quindi non è necessariamente vero che le piccole imprese devono restare tali, noi purtroppo in Europa abbiamo un po' quel concetto che piccolo è bello e quindi di conseguenza va bene formare un tessuto di piccole imprese che si autosostengono in qualche modo, questo va bene sì e va bene no, nel senso che certo dà lavoro a persone in un lavoro che può essere anche molto appagante, ma non è abbastanza per tenere insieme un sistema economico importante. Ci chiedevamo qual è il prossimo, diciamo così, il prossimo normale, tra virgolette, allora qui non posso che collegarmi a quello che io vedo nel mondo della ricerca, quello che noi facciamo in Silicon Valley ma non solo e ci sono delle importanti direzioni che noi dobbiamo vedere, una di queste direzioni è proprio quella della crescita a dismisura dei dispositivi elettronici che sono sensori, attuatori e decisori, quindi è stato previsto che per il 2025 avremo un numero di dispositivi di dispositivi elettronici che possono misurare quello che è intorno a noi, possono vedere che cosa succede, nel loro in 7 triliardi di dispositivi, assumendo che nel 2025 saremo 7 miliardi di persone, vuol dire che ci saranno mille dispositivi per persona, allora cosa facciamo di tutti questi dispositivi? In realtà non è che ce li portiamo addosso, qualcuno sì, ma molti saranno nell'ambiente stesso e quindi il modo di interagire, nostro di interagire col mondo digitale non sarà più attraverso il cellulare, il laptop eccetera, ma sarà in modo naturale e quindi questo ci porta anche a capire come potrebbe essere il futuro di conseguenza la pandemia, quindi saremo immersi in una realtà aumentata e per cui io non ho alcuna difficoltà a pensare a una situazione in cui quando ci vogliamo collegare con una persona, magari con Zoom, possiamo avere addirittura un ologramma di questa persona in tre dimensioni che ci sta di fronte. Io ho visto dei sistemi di questo tipo all'IBM e io mi ricordo che erano talmente reali che a un dato punto mi sono alzato per stringere la mano a un collega che stava in Israele, era così reale che effettivamente alcune delle cose che dicevo prima della necessità di avere un contatto personale in effetti si possono fare, quindi questa idea dell'uomo immerso in una realtà diciamo così digitale fa sì che alcuni effetti della pandemia spariscano, effetti negativi della pandemia possano scomparire. A questo proposito del digitale e del futuro dobbiamo anche immaginare i cosiddetti sistemi biologici e cibernetici. Cosa sono i sistemi biologici e cibernetici? Sono quelli che derivano dall'interazione diretta tra il mondo digitale e il nostro sistema fisico, per esempio il nostro cervello. Ormai ci sono addirittura due o tre compagnie, start up eccetera, non solo, ma Elon Musk ha fatto partire una compagnia proprio in questo settore, che è quello di collegare il digitale al nostro digitale, che è il nostro cervello. Ora qualcuno dice oh mio Dio che cosa orribile, sì in effetti ci sono molti pericoli di questo collegamento diretto se vogliamo al mondo internet con il nostro sistema fisico, proprio il nostro corpo. Ma senz'altro l'introduzione di questi dispositivi che possono interagire col sistema nervoso consentono anche di curare gravi malattie, per esempio le persone cliniche, Parkinson e altre malattie di questo tipo si possono migliorare, gli effetti possono essere abbassati se volete, oppure addirittura guarire, perché è stato dimostrato con Deep Brain Stimulation, per esempio la depressione clinica può essere contenuta, addirittura eliminata. Altra possibilità è quella di collegare direttamente degli arti artificiali, per chi è un grande invalido, al nostro sistema nervoso, in modo tale che le persone vedano l'arto come proprio un'estensione del proprio sistema nervoso e quindi convivano con questo arto in modo assolutamente naturale. Ma addirittura, ormai da un po' di anni, è venuta fuori un'idea che tra l'altro è stata spinta da un mio collega di Berkeley, che è quella della biologia sintetica. La biologia sintetica è quella proprio di ingegnerizzare delle forme di vita che non esistono in natura. Però voi dite, Frankenstein, in un certo senso sì, al momento noi quello che riusciamo a fare è costruire dei batteri che non esistono nel sistema naturale, che abbiano delle funzioni particolari e questo è proprio quello che facciamo con i dispositivi meccanici, con i dispositivi elettrici e così via. Quindi possiamo creare per esempio dei batteri che abbiano delle funzioni quali la creazione di medicine tipo l'artemisillina che è il principio attivo per la cura della malaria a bassissimo prezzo e alti volumi. Questo viene ricollegandomi ancora a quello che diceva Alessandro nell'introduzione, si collega a questo pensiero laterale se volete, perché la synthetic biology è venuta dall'interazione che c'è tra gli ingegneri, in particolare gli ingegneri elettronici e i computer scientists con la biologia. Stessa storia tra la neurologia, le neuroscienze e l'ingegneria elettronica e la scienza dei calcolatori per quel che riguarda il brain machine interface e questa è una tendenza che ormai c'è da tutte le parti. Pensate anche che per esempio una delle possibilità di eliminare il virus Covid potrebbe nascere da un utilizzo di strumentazioni che di solito vengono usate nel mondo della difesa e quindi l'innovazione di solito avviene proprio per questa cross fertilization, che poi è tipica della creazione di nuove forme di vita che vediamo per esempio nelle foreste amazonico, mocevo. Quindi il punto che voglio sottolineare però è che in questi settori noi notiamo sempre perché c'è un sviluppo di tecnologie fondamentali. Molto spesso si sente dire ah vabbè è una questione di applicazione, quindi prendiamo magari il digitale, lo applichiamo lì e guarda abbiamo una nuova impresa che cambia il mondo. Non sempre e non necessariamente, quello che a noi occorre è la comprensione profonda di quello che vogliono dire le nuove tecnologie, ma perché la comprensione profonda? Perché dobbiamo essere anche in grado in qualche modo di vedere quali sono gli effetti negativi dell'utilizzo di questa tecnologia, le limitazioni di questa tecnologia, perché non tutto si può fare con la tecnologia oppure non ancora a certe applicazioni sono mature, bisogna aspettare che si capiscano per bene. Quindi questo è un problema che io vedo molto spesso nei giovani, anche in America, è quello di saltare immediatamente alle conclusioni, quindi dire ho questa tecnologia, la utilizzo così, senza capire che magari quest'utilizzo potrebbe essere estremamente dannoso o molto così, inappropriato. A proposito dell'innovazione di cui tutti parlano, naturalmente è quella dell'intelligenza artificiale, ma allora è vero che l'intelligenza artificiale sarà il nuovo modo di vivere ed è quella famoso new norma che dicevamo? È una panacea oppure no? Beh, dal tono della mia voce capite che sono un po' critico di questa cosa, è senz'altro una tecnologia importante, ha senz'altro delle applicazioni, ma stiamo attenti a quello che si va a fare con questa tecnologia. Come mai è emersa l'intelligenza artificiale, o meglio dire machine learning? Perché spesso le persone confondono l'intelligenza artificiale con machine learning. Machine learning sono i famosi algoritmi, sono quelli che dai dati tentano di estrarre delle informazioni su cui puoi prendere delle decisioni. Come mai è così importante machine learning oggi? È una nuova idea, ma quando mai? Le prime proposte in questo senso venivano addirittura negli anni 70, quelle prime reti neurali sono andate fuori negli anni 70, negli anni 80 c'è stata una buona ondata di nuovi risultati eccetera, ma all'inizio degli anni 90 la tecnologia non aveva dato risultati e quindi praticamente era morta tra virgolette, quello si chiamava the winter of AI, l'inverno dell'artificial intelligence e tutto all'improvviso ancora salta fuori. Ma per qual motivo? Il motivo è perché nel 1980-1990 certo avevamo i dati, invece ce ne avevamo pochi, non tanti quanti ne abbiamo ora. Se voi vedete questi numeri ogni 60 secondi ci sono circa 1820 terabytes di dati che sono creati, ogni 60 secondi. Quindi immaginatevi nel giro di una settimana quanti terabyte vengono creati, ma è il fatto che si creano e poi cosa ce ne facciamo? Collegato a questo vi ricordate che ho detto i famosi miliardi di dispositivi? Allora questi miliardi di dispositivi servono per misurare cose e se noi abbiamo in mente che nel 2025 ci saranno trilioni, oggi nel 2020 ci sono circa 50 miliardi di dispositivi in genere spread around, messi dentro tutti i nostri oggetti di uso comune. Ma questi generano dati e questi dati si vanno a sommare a quei dati che vi ho fatto vedere prima che erano soltanto per i cellulari, computer eccetera. Quindi la somma di queste due fa sì che abbiamo un enorme ammontare di dati, ma nello stesso tempo siamo stati talmente bravi nel progettare i nostri dispositivi elettronici che abbiamo un'enorme potenza di calcolo. Mettete insieme la necessità di estrarre informazioni da una valanga di dati con la potenza di calcolo ed ecco che quei metodi che erano stati proposti negli anni 70 diventano tutto all'improvviso molto importanti. Però attenzione perché quello che il machine learning fa non è nient'altro che un'inferenza rispetto ai dati che voi avete. Quindi meglio sono i dati, migliore è l'inferenza che potete ottenere. Ma l'inferenza non è inventare qualcosa di nuovo, è proiettare nel futuro quello che abbiamo visto nel passato. E quindi va bene perché possiamo avere un certo modo di comprendere che cosa è successo, ma da qui a dire che gli algoritmi faranno in modo da inventare nuove cose ci passa il mondo. Quindi abbiamo detto big data prossimo più potenza, questa nuova età dell'intelligenza artificiale è basata su questi principi. Naturalmente il punto di attenzione per l'intelligenza artificiale è stato proprio l'utilizzo di questi algoritmi per battere in alcuni giochi tipo Go il campione mondiale di Go. Allora tutta l'impresa dice ahi se riescono a battere il campione mondiale un gioco così complesso come Go, perché è semplice da un lato, ma è estremamente complesso perché il numero di possibilità sono estremamente ampie. e quindi vuol dire che l'intelligenza artificiale può fare a meno dell'uomo e può lavorare da sola senza l'aiuto dell'uomo. Ricordarsi che questo è un gioco e quindi come tutti i giochi ha delle regole precise e quindi le possibili configurazioni sono tutte note in principio e quindi se avete una struttura di calcolo sufficientemente potente potete esplorarla in modo efficiente e per poter esplorare le configurazioni vincenti, certo che quello che ho visto nel passato mi può servire e posso addirittura sintetizzare delle strategie che sono migliori di quelle che può avere un uomo, ma sempre perché lo spazio di ricerca è noto e finito e quindi gli algoritmi hanno ragione d'ersa. Infatti questo è un mio collega, Michael Jordan, che probabilmente è la persona più riconosciuta nel campo del machine learning, in cui dice che tutte queste cose che si leggono sui giornali, ecco vedi ci sono i neuroni artificiali e quindi possiamo fare quello che il cervello umano fa, non è vero, cioè non siamo lontanissimi da poter fare qualcosa di questo tipo, soprattutto per gli aspetti di consapevolezza, di lateral thinking, come dicevamo prima, della capacità di provare emozioni, ecco tutte queste cose naturalmente una macchina di inferenza non le può fare, non solo, ma le macchine di inferenza possono essere ingannate. Ed ecco qua degli esperimenti che sono stati fatti a Stanford, in cui il riconoscimento delle immagini che vedete lì, in cui pure le reti neurali sono molto efficienti, non hanno preso per niente, se vedete quella specie di strisce nere con cerchi gialli eccetera, l'algoritmo ha detto questo qui è un pinguino reale, ora il vero pinguino reale è quello che sta a sinistra, non mi sembra che si assomigli a un granché. Così come in basso a destra vedete l'African Grey, che è un pappagallo molto carino, molto bello con i colori, eppure quell'immagine che non si assomiglia ancora una volta per niente è stata riconosciuta con 99,99% di sicurezza dagli algoritmi e direi quello è quel pappagallo lì. E' così questi altri esempi che vedete lì, tipo la gitarra elettrica, la palla da baseball, la stella di mare e così via, sono tutte immagini che non hanno quasi niente a che fare con quello di prima. Ma perché? Perché è sempre lì, cioè gli abbiamo dato dei dati in cui per esempio nel caso del king penguin il colore era dominante e quindi l'algoritmo dice te c'è il giallo, il nero, il grigio, quello lì è un pinguino, senza porre attenzione per esempio alla forma del suddetto pinguino. Quindi bottom line, l'artificial intelligence, ma meglio dire machine learning, è una glorified statistical inference, che vuol dire una inferenza statistica alla massima potenza. Quindi questo è, e quindi non possiamo chiedere a una macchina di inferenza statistica di trovare le equazioni di Maxwell da sola o di scrivere la divina commedia, non lo farà mai. Quindi dobbiamo metterci l'anima in pace che questo tipo di macchine aiutano l'uomo. Tant'è vero che adesso l'attenzione dell'intelligenza artificiale si è mossa verso quella che si chiama explainable AI, cioè perché sei arrivato a quella conclusione lì. E quindi di completare, complementare l'uomo. E quindi non si parla più di artificial intelligence, ma di augmented intelligence. E quindi questo è il nuovo normale, noi ci dobbiamo mettere in mente, che queste macchine aiuteranno noi a fare i nostri compiti, a inventare nuove cose, eccetera. Ma non ci possono ancora sostituire, a meno che non si trovino dei nuovi algoritmi, delle nuove architetture, nuova comprensione di come funziona il cervello umano. Quindi quello che volevo dire ancora una volta è il fatto, attenzione a capire quali sono le grandi direzioni. E le grandi direzioni sono quelle basate sui fundamentals. Per esempio nel caso dell'intelligenza artificiale ci sono dei fundamentals, e sono l'analisi statistica. Però bisogna insegnare ai nostri studenti, bisogna insegnare al pubblico, che cosa vuol dire avere un algoritmo di machine learning. E che quindi non ci possiamo a priori fidare assolutamente di questi algoritmi. Per esempio, se voi date dei dati biased, è chiaro che le decisioni che prendete saranno biased. Se voi fate vedere una classe al Politecnico di Milano, alla mia epoca, c'era una ragazza e c'eravamo 5.000 uomini. Allora a quel punto l'AI cosa direbbe? Che è chiarissimo che ingegneria è solo uomo, uomo uguale ingegneria, che è chiaramente una bufala. Ma perché? Perché i dati nel passato questo ci dicevano. E quindi non ci consentono di fare naturalmente le politiche opportune per convincere le ragazze a fare ingegneria o altre materie scientifiche. Quindi questo è molto importante averlo presente. che le inferenze statistiche sono buone quanto buoni sono i dati e quanto i dati sono utili per predire il futuro. Ecco, adesso qui mi taccio che ho parlato perfino troppo e lascio la parola a Alessandro. Grazie Alberto di questa in pratica Alexio Magistralis quasi migliore di quella che hai fatto al Politecnico, perché me la sono ascoltata. E quindi grazie di questi, diciamo, spaccati di futuro. Allora, due notizie, diciamo, di servizio. Ci sono in questo momento più di 300 persone collegate e ci sono ogni tanto, mi dicono dalla chat, i colleghi della regia, dei problemi di connessione che dipendono purtroppo non da noi in questo momento, ma dalla piattaforma e comunque poi tra pochi giorni tutto questo chi avesse avuto problemi lo potrà, diciamo, rivedere nel sito. Torniamo a noi, Presidente. Quindi qui ci sono un sacco di cose importanti. C'è un concetto di creatore di contesto che a me interessa molto, ma che metto già nell'orecchio per dopo, per l'assessore Spinelli e Alfredo Maglione, perché è un tema su cui poi lavorerò con loro dopo quando gli darò la parola. Presidente, qua ci sono delle cose che a me sono interessate molto. Il concetto degli schemi che saltano, l'abbracciare l'incertezza, ha parlato molto, diciamo, di resilienza, il valore dell'errore e poi ha dato, anche proprio vicino al tuo mondo imprenditoriale, del business, della tua azienda, diciamo leader, di rispaccati di tecnologie future. Così, a caldo, una tua percezione di questa intensa lezione del professore? Decisamente intensa, decisamente interessante. è importante, diciamo che ha spiegato bene il significato del nuovo normale, e penso che noi si debba vivere questa prossima normalità accettando maggiormente volentieri i nostri errori, non ripeterli, fare quello che siamo abituati e capaci di fare, cioè quello di sperimentare, di andare oltre, di farlo un po' più con il cuore leggero e di imparare dai nostri errori. Poi qua abbiamo anche ascoltato che alla fine l'innovazione la possiamo inserire ovunque, anzi forse la dobbiamo inserire ovunque e in alcun modo ci può e ci deve spaventare. Cioè, semplicemente ci aiuterà, a me questo del fatto di ridefinire un'intelligenza artificiale, un'intelligenza aumentata è una cosa che intriga molto, perché è esattamente così, lo è nel mondo che seguo e questo deve essere all'interno di quei tanti trilioni, sette trilioni di sensori. E qua potremmo meglio probabilmente esprimere, stiamo parlando in tempi brevissimi, in cinque anni, da 50 miliardi a sette trilioni, è una cosa incredibile questa previsione, la quantità di dati in continuo che questi sensori potranno produrre e potrà alimentare in maniera importante e cambiare l'agricoltura, cambiare il trasporto, cambiare il modo con il quale si eroga sanità, si eroga salute, cambiare la meccanica e questo probabilmente che noi dobbiamo capire e vivere questa accelerazione, probabilmente non la volevamo vivere, la natura ci obbliga a viverla, dobbiamo semplicemente andare davanti e non rincorrere il carro, ma cercare di mantenere il timone. Ricorderete che sono appassionato, così una parola forse esagerata, della teoria dei colori, abbiamo fatto la prima puntata, se si ricorda Presidente, elogiando la vostra agenzia che aveva utilizzato il rosso, una variante del rosso, e poi il blu, perché era il colore della tecnologia, il rosso delle emozioni, e mi pare qui di concordare, e credo che anche tu Alberto possa essere d'accordo, sull'ultimo libro di Luciano Floridi, quindi il blu e il verde, quindi un futuro dove si unisce blu, e quindi tecnologia e digitale, ma anche sostenibilità, e con le righe che avete notato. Allora, grazie per la tua riflessione, quindi professore ti ha promosso, hai visto, il nostro Presidente ha avvallato, diciamo la tua testimonianza, quindi lo ringraziamo con venerazione. Allora, torniamo a noi, adesso con la seconda parte, quindi alcune domande che ho preparato, alcune riflessioni, magari alcune un po' provocatorie. Allora, come iniziamo a farle? Abbiamo sentito il Direttore Generale di Infocamere, Paolo Ghezzi, che fra il resto, magari per chi non lo sapesse, anche l'artefice in parte, anche se lui fa il modesto, diciamo di avere elaborato la normativa, qualche anno fa nel settore delle start-up, ma non da solo. Vorrei dare brevemente per qualche minuto la parola a lui, per poi confezionarti, diciamo, una domanda legata al mondo, diciamo, dell'America. Regia, possiamo andare con il piccolo video? Allora, non posso ovviamente vantarmi di essere l'artefice di una normativa così importante come quella che sta regolando in Italia le start-up e le PMI innovative, però posso dire di aver contribuito nel 2012 insieme a un rappresentante importante di Confindustria, Marco Gai, che allora era il presidente dei giovani di Confindustria e noi ci siamo trovati proprio a una loro assemblea di Confindustria giovani e lui mi rappresentò questa proprio idea di come possiamo copiare il modello americano e valorizzare anche in Italia questa tipologia di impresa e a quel punto decidemmo di fare un'analisi di come si potevano distinguere questo tipo di imprese nel nostro modello civilistico, dove un'impresa nasce dal notaio a tutta una serie di informazioni e quindi conducemmo questo studio in maniera molto tecnica, approfondita e a quel punto arrivamo ad avere tutte le specifiche di cosa chiedere a un'impresa di questo tipo, quindi che doveva avere all'interno l'innovazione, la presenza di brevetti, la presenza di competenze particolari nelle persone che facevano questa impresa, a quel punto siamo dovuti per fortuna andare al Ministero Sviluppo Economico e ci è venuto dietro normando quello che è la legge attuale delle start-up e PM innovative come una sezione del registro delle imprese con molte più informazioni e quindi con questa regolamentazione oggi è stata istituita una sezione nel registro delle imprese dove tutte le start-up e PM innovative sono censite, una per uno e soprattutto lo Stato ha potuto introdurre i meccanismi di finanziamento, sgravi fiscali, facilitazioni anche per supportarle, tant'è che è un modello molto diverso dalla start-up di Silicon Valley dove su 100 che sono definite start-up alla fine ne sopravvivono 5% a distanza di qualche anno. Da noi oggi sono 12.000 circa e di queste 12.000 sopravvivono probabilmente il 90%, proprio perché prima di dichiararsi start-up e PM innovative hanno già superato diciamo la fase dell'impresa start-up tipo che nasce in un garage dove ancora non ha nemmeno idea di come si fa imprese, in realtà sono imprese già assistite in parte dai consulenti, dai commercialisti, da persone per cui quando nascono le idee che hanno sono già molto più avanti diciamo del modello della Silicon Valley. Ecco, a proposito di questa Silicon Valley Alberto arrivo alla domanda con un piccolo contributo che il nostro magico regista ha trovato in rete e qui è il regno tuo perché è casa tua. Ecco, questo è proprio girato ora ovviamente diciamo non in diretta ma è qua si riconosce tra poco il famoso garage con i due bidoni delle immondizie davanti quindi possiamo benissimo dire senza essere smentiti che è il famoso garage di Steve Jobs ne abbiamo una prova in più perché il nostro regista è stato presidente del gruppo Giovani Imprenditori e quindi si è autoimmortalato in una foto ecco che ora potremo mandare in onda al famoso 2060 non ho gli occhiali ma credo presidente il 2066 questo garage a parte la battuta la domanda che volevo farti adesso scatenati sulla verità delle start-up la differenza tra l'America tra diciamo l'Italia so che anche nell'intervista che hai fatto sul nostro giornale un pochino ti sei diciamo scatenato e quindi raccontaci tu che hai vissuto lì e ne hai creati alcune importanti un po' le differenze ci ascoltano solo 300 persone quindi non è che poi mi crocefiggono più di tanto allora è vero sì che le imprese le start-up falliscono in America ai numeri che ho detto sono poche ci sono i famosi unicorn che valgono un miliardo e quelli sono ancora adesso le mie imprese valgono ciascuna circa 30 miliardi quindi io sono 60 no 60 volte unicorno ma insomma il punto base è che però non è facile fare grandi imprese allora quelle che si barcamenano che rimangono sulle 10 persone 15 persone 20 100 beh si stacca la spina cioè non hanno ottenuto il risultato che ci si aspettava e quindi i finanziatori si ritirano perché i numeri non tornano perché se noi assumiamo che ci sia un successo così basso tra virgolette se io metto un milione in un'impresa devo per forza pensare che nel futuro mi dia un ritorno di almeno 40 perché se no non tornano i numeri quindi il venture capital che non è che fa diciamo così la carità non è una struttura di sostegno economico deve fare i suoi conti quindi deve vedere quali sono le imprese che hanno la possibilità di diventare grandi e il suo mestiere è proprio quello di fare i cani da tartufo di andare a beccare le idee buone purtroppo insieme al tartufo becca anche il fungo velenoso e quindi poi ci vuole un altro esperto altri esperti dopo il cui maggiore esperto è il mercato poi che ci dice questo che era un fungo velenoso non era il tartufo bianco e quindi è meglio che lo butti quindi c'è questo discorso della vita e della morte cioè non ci può essere una vita fiorente senza la morte bisogna riciclare il materiale umano perché anche l'errore come dicevi tu prima ha una fondamentale valenza per riuscire a fare qualcosa di buono se tu non hai sbagliato è difficile che poi ti accorgi che sei sull'orlo del cliff io mi ricordo che quando abbiamo formato la prima impresa nell'83 non ripetene nell'85 86 stava per andare sotto se non avessimo trovato qualcuno che aveva fiducia in noi addio anche questa era una delle tante che andavano sotto ma però è diventata grande famosa e tutto il resto ma nell'87 quando ho fondato la seconda compagnia visto che ho sbagliato alcune cose nella prima è andata bene subito cioè non abbiamo sbagliato una curva perché tutti gli errori li abbiamo fatti prima quindi abbiamo imparato e quindi la seconda impresa è andata bene subito che è una prova anche sulla mia pelle che è il fatto che dagli errori bisogna imparare e che dagli errori si impara perché se è vero che la probabilità di avere una compagnia di successo è una su mille no di successo tipo un miliardo di valutazione sullo stock market moltiplica il numero le probabilità vedi che sono una su milione o anche di più di avere successo due volte in fila ma perché perché hai gettato i dadi non proprio diciamo così sono stati un po' troccati questi dadi quindi la seconda volta fai sei e guarda caso esce sei detto ciò ecco a proposito di questo scusa volevo sottolineare se la prossima diciamo azienda che fondi almeno a noi trentini ce lo fai sapere con qualche minuto prima così regoliamo i nostri risparmi magari investimenti così interessanti se non è una battuta è un appello è un appello visto anche questa situazione stanno già arrivando delle domande interessanti per te e del pubblico che poi però ti farei poi diciamo nella seconda parte avevo ancora una riflessione ma c'è una cosa però scusa Alessandro volevo finire per dire la differenza tra l'Italia e gli Stati Uniti quello che ha detto alla persona che ha fatto il video non mi ricordo il nome mi dispiaccio perciò Paolo Ghezzi dice ma guarda tutte le imprese all'80% sono ancora vive e questo è un brutto segno perché vuol dire che non è stato scommesso abbastanza e quindi quante di queste imprese sono cresciute quante di queste imprese sono valutate sul mercato azionario no? quanta ricchezza hanno creato o sono delle imprese piccole che sono familiari lasciami dire no? e quindi è questo quello che vogliamo fare oppure no? è questa l'operazione di sistema che l'Italia deve fare oppure deve fare in modo che se ci siano alcune di queste mica dico che non ci devono essere ma che ci sia la mentalità del rischio e del venture capital allora io non mi fido dei governi di qualsiasi tipo che ci sia americani cinesi papuasiani trentino quello che volete a scegliermi le start up il 90% dei venture capital negli Stati Uniti sono ex imprenditori ma come mai? non sono gente che ha fatto che ne so il governo piuttosto che il banchiere perché è solo l'imprenditore ha quella capacità di dare consulenza alle imprese in cui fuori il fatto di avere come consulenti quelli che fanno i conti francamente non mi eccita il fatto che io ho l'avvocato piuttosto che quello che fa i conti e dici guarda che ti aiuto a stare in vita questa è una brutta cosa francamente adesso Paolo non me ne voglia non me ne voglia ma non è una cosa che io avrei detto certo non hai la ricerca del paradosso in questa situazione se no diventa una start up in cui ti autopaghi il tuo stipendio per campare ma infatti adesso se mi consenti io volevo shareggiare questa slide che viene da Paolo Tremolada adesso alle 24 ore adesso guarda qua è un po' vecchiotta perché è della fine del 2017 però insomma secondo me è importante perché è proprio quello che volevo dire eccolo qua vedete ci sono 8000 le aziende in questi anni sono registrate come start up innovative meno di 300 di queste start up fatturano più di 500 mila euro e la mediana dei ricavi si aggira sui 30 mila euro quindi è una soluzione di auto occupazione non è una start up accidenti accidentaccio e quindi signori miei attenti a cosa si chiama start up e dobbiamo essere anche molto rigorosi nel impegnare le nostre soldi in quello che crea valore e anche lì dobbiamo forse fare in modo di incitare gli imprenditori veri imprenditori quelli che hanno creato la propria azienda di diventare quelli che poi scelgono e aiutano le imprese certo scusate se mi scaldo ma questa è una cosa che va risolta va benissimo anzi perché stai preparando l'argomento e quindi ora comincio a dire di mettersi diciamo in preallarme appunto sia a Miglione che Maglione scusa che è l'assessore perché adesso arrivo da loro quindi alla regia avverto che ora vorrei andare nella sala di presidenza perché vorrei fare una domanda a Maglione che poi farà resto oltre a essere un esperto personale anche di innovazione anche molto diciamo nel mondo digitale diciamo ha anche questa delega quindi in qualche minuto sempre per i nostri spettatori ci sono ascoltatori beh anche spettatori perché stanno guardando non siamo bellissimi però insomma stanno guardando diciamo anche loro quindi la riflessione di cosa si fa in Trentino per favorire la nascita di nuove start up e la domanda era tu dopo le incursioni che ha fatto il professore come valuti la qualità diciamo di un incubatore alcune battute su questa riflessione ti ringrazio per essere venuto grazie Alessandro buon pomeriggio a tutti innanzitutto ci tengo a dedicare il primo minuto per dare anche il mio benvenuto ad Alberto ci siamo incrociati diverse volte degli anni ciao Alberto mi ricordo molto bene mi ricordo molto bene ci accomunano due cose la parma è un pochino più bianca ci accomunano due cose la prima è che Alberto per noi è stata una guida maestro nel mondo della microelettronica dei microsistemi la mia azienda fa microchip e sensori pensate che sin dall'inizio noi utilizziamo abbiamo utilizzato e utilizziamo tuttora i software di simulazione e progettazione di Cadence quindi per noi è sempre stato un maestro Alberto ed è un onore averlo collegato il secondo aspetto secondo me più pregnante sul tema innovazione startup e acceleratori è che noi proprio alcuni anni fa con alcuni colleghi siamo partiti in delegazione da Confindustria Trento con Luca Cattoi Alberto Gasperi alcuni manager della ricerca e siamo andati proprio da Alberto siamo andati a Berkeley siamo andati a visitare il modello californiano di fare startup di collaborare tra imprese Berkeley Stanford le università e gli acceleratori e abbiamo provato a capire come lì facevano questo mestiere per riportarlo in Trentino e cercare di adattarlo al nostro ecosistema e anche in questo Alberto è stato per noi maestro quindi per noi è veramente un onore averti qua di nuovo Alberto in Trentino collegato non è che gli ho finanziato l'impresa no perché magari qualcuno dice con tutti questi complimenti magari ti ho pagato sotto ma in realtà no queste cose queste parole le abbiamo tradotte in parte infatti per non eludere la domanda di Alessandro da quell'esperienza siamo tornati in Trentino e abbiamo fatto nascere il nostro acceleratore un acceleratore che è nato con impostazione industriale si chiama Industrio e appunto abbiamo provato ad applicare questi concetti ovviamente dovendoli adattare al Trentino all'Italia un ecosistema che non è la Silicon Valley io condivido tutto quello che ha detto Alberto perché effettivamente in Italia abbiamo una serie di limiti e su questo ci confrontiamo anche con un acceleratore con un incubatore qui piccola precisazione dobbiamo distinguere il ruolo degli incubatori dal ruolo degli acceleratori gli incubatori spesso vengono associati ai BIC e sono molto spesso collegati con gli enti pubblici con Trentino Sviluppo con la provincia e hanno un ruolo fondamentale che è quello di dare la possibilità a tutti i giovani oso dire in maniera sociale di dare la possibilità a tutti di avere una scrivania di avere un posto di vivere un ambiente che può essere un polo tecnologico come la meccatronica o quant'altro diverso è l'acceleratore l'acceleratore come industrio è sul modello che ha appena detto Alberto è fatto essenzialmente da imprenditori da manager da soggetti privati che investono i loro soli la loro esperienza e devono avere dei criteri di scouting di selezione di spinta delle start up che sono quelle che diceva Alberto dobbiamo essere meno correttamente etici dal punto di vista sociale ma individuare le start up che valgono accettare gli insuccessi e i successi e cercare di selezionare quelle valide e soprattutto accelerare il loro percorso per portarle al mercato e farle crescere un acceleratore si misura su questo si misura sul fatto di trovare delle start up valide di accettare che alcune abbiano che siano un insuccesso e invece trovare quelle che possano diventare uno unicorn ovviamente aggiungo il tutto a mio modo di vedere deve essere dimensionato con l'ecosistema territoriale noi parliamo di ecosistema innovativo e è evidente che quello trentino come quello italiano si compone di soggetti le università i centri di ricerca l'ente pubblico i politecnologici gli acceleratori tutti questi ingredienti sono un po' a dimensione trentina siamo comunque in una provincia di 500 mila abitanti adesso faccio una battuta se noi dovessimo chiudere dopo alcuni anni le aziende che non hanno raggiunto i 50-100 dipendenti non chiuderemo solo il 99% delle start up ma dei 600 associati in confindustria ne chiuderemo 500 su 600 intendo dire c'è un tema diffuso che è quello da conoscere affrontare e migliorare che è quello endemico delle piccole medie imprese del sistema italiano noi viviamo in un ecosistema basato su piccole medie imprese e non sto dicendo che piccolo è bello perché ha ragione Alberto nel fare innovazione nello spingere questo sistema noi dobbiamo riuscire a creare più società importanti che guidano e gli acceleratori spesso devono far questo devono far coesistere le start up con le corporate sempre di più l'innovazione delle corporate viene fatta mettendo in contatto le corporate con le start up quindi in un ecosistema equilibrato noi non abbiamo la giungla pluviale brasiliana abbiamo i boschi dolomitici del trentino ma nel nostro ecosistema devono coesistere le aziende che guidano importanti dobbiamo farne sempre di più ma ci stanno anche le start up che però danno valore aggiunto e fanno crescere magari le corporate ecco questo questo modello su cui lavorare è un modello interessante penso che in trentino stiamo facendo abbastanza bene potremo e dovremo fare ancora di più è un territorio pilota ed è un cantiere quindi ti ringrazio Alfredo della risposta e poi fra il resto farò alla fine la prima domanda che è capitata della chat che riguarda proprio il territorio ma è molto significativa perché sono alcuni aspetti che ha toccato sia Alberto e sia Alfredo ma quella ve la faccio dopo allora qui sul tavolo vedete delle cose strane chi mi conosce sa che non posso stare con un tavolo vuoto diciamo ovviamente qui vedi anche questo vecchio telefono è il primo telefono che io avevo c'è ancora scritto SIP come mi faceva notare diciamo Luca e 5 kg più 5 kg di batteria che si teneva in macchina non so ve lo ricordate diciamo era il TAC ma qui soprattutto questa cosa rossa non so se si vede anche da dove sei Alberto rappresenta una buca delle lettere diciamo delle poste perché volevo fare una piccola metafora se io volevo scriverti come a suoi tempi una bella lettera caro Alberto ti scrivo diciamo virgola dovevo prendere il mio foglio di carta piegarlo prendere diciamo una busta inserire all'interno della busta diciamo il foglio di carta mi sono procurato un francobollo di quegli adesivi non da leccare così non abbiamo problemi diciamo di virus veniva incollato e poi questa lettera magicamente entrava in questa busta e qualcuno in qualche modo poi te la avrebbe recapitata diciamo a Berkeley oggi fai un'email e mandi diciamo immediatamente diciamo il messaggio allora prendo la sprovvista la regia perché in questo momento non lo sa questo mio cambiamento gli chiedo se andiamo a ravanare in quel sito dove c'è lo stato dell'arte di tutto quello che succede in questo momento per gli amanti di internet è internet live states dove in tempo reale c'è quello che succede siccome sono mio e non ci vedo ma credo che anche il presidente da lontano non ci veda chiedo alla splendida voce del nostro lettore Luca Cattoi se mi legge qualche dato come siamo messi nella giornata di oggi? Beh oggi sono state inviate circa 200 miliardi di email sono state fatte 5 miliardi 800 mila ricerche su Google quasi la stessa cifra di visualizzazioni di video di YouTube ecco per dire sono numeri giganteschi ci sono anche delle slide che girano in rete quelle diciamo della torta dove ci sono le percentuali del famoso minuto da Odei al giorno in internet diciamo seconda dei vari anni di cosa succede tutto questo Alberto era per farti una domanda precisa che voleva dire questo è un mondo per i giovani è quello che Baricco chiama The Game è la Playstation dell'iperspazio in cui andiamo a giocare noi parlo per me non te perché io ho 65 anni ma tu ne hai qualcuno di più ma sei molto più giovane di me diciamo per lo smalto e la brillantezza che hai e quindi voglio semplicemente dire il mondo più vintage ragiona come giocassimo a scacchi quindi davanti a una scacchiera quindi abbiamo un mondo che è dato in mano a persone che stanno giocando a scacchi quando serve un mondo a persone che abbiano in mano un telecomando e lo sappiano gestire con tutte le logiche del gioco la domanda era ai giovani che ci stanno ascoltando e mi avverte l'ha detto stampa il PR dell'associazione che sono più di un centinaio giovani studenti che caratteristiche cerchi in loro per poter lavorare nelle tue aziende o nelle aziende nel mondo digitale a te vicino quindi che caratteristiche deve avere un giovane oggi di pensiero per lavorare in questo mondo io cerco sempre di trovare persone che hanno delle basi solide più solide base hanno e meglio hanno basi solide vuol dire che sappiano di matematica sappiano di fisica di quelle scienze che poi ci consentono di costruire qualcosa che non sia sulle sabbie mobili ma sia qualcosa che rimanga negli anni molti parlano bene le imprese si fanno con gli hackers quelli che stanno a scrivere computer programs really fast beh io ho ancora da vedere dei programmi scritti dagli hackers che per esempio non abbiano bacchi cioè i famosi errori bene io se vado a pescare tra persone tra i miei studenti quelli che hanno le basi più solide magari ci mettono un po' di più a scrivere questi benedetti programmi però quando escono sono solidi cioè più difficile che ci siano degli errori perché pensano cioè quindi uno dei problemi fondamentali della vita di adesso è che le persone sono non sono più abituate a pensare sono abituate a reagire e quindi sono magari abilissimi nella manualità nell'interazione veloce ma non sono in grado di capire la big picture e allora la big picture è invece quella che ci vuole cioè se tu vuoi formare una leadership sia industriale che governativa che accademica devi insegnare alle persone a ragionare cioè quindi deve avere in un certo senso devi insegnare alla gente a giocare a speed chess cioè sai che ci sono queste versioni di scacchi in cui tu hai un tempo limitato che devi fare sta mosso e quindi quello è il futuro è quello lì cioè che devi pensare in modo veloce ma non per questo meno valido di quando ci stai su a pensare un secolo perché spesso se tu stai a pensare troppo poi ti leghi le mani i piedi a un certo punto devi chiudere gli occhi e dire vabbè io ho fatto la mia analisi secondo me questo è quello che va fatto quindi un mix di competenza e velocità quindi di profondità e di capacità di essere veloce sulla rete ecco una seconda domanda e poi entrerò di nuovo nella sala diciamo di presidenza perché voglio fare una domanda all'assessore Spinelli ovviamente sempre su queste tematiche la domanda per te è un po' diplomatica cerco di farla in un modo educato se no l'avrei fatta in un modo immediato diciamo o sostanzialmente diverso era tornando al tema diciamo degli incubatori il discorso di che equilibrio consigli tra la gestione dell'immobile e quindi tra virgolette il mattone e la qualità d'elementi cioè perché ti faccio questo discorso nel senso io credo che poi come diceva anche il Presidente e anche tu prima è sulla contaminazione e sulla cross fertilization che nascono le idee quindi è probabile che in un bar della Silicon Valley o gente che pratica al surf si trovino talmente tante persone che navigano in questo mondo che è facile avere relazioni interpersonali in cui ti porti a casa sempre un valore aggiunto diciamo doubt des ma quindi conta il posto conta le persone conta attirare il talento ecco una tua ricetta se esiste per diciamo darci una dritta beh la ricetta non esiste mai io quello che posso dire faccio anch'io inferenza statistica adesso come fa machine learning ma basato sulla mia esperienza la vicinanza di menti diverse è quella che poi dà il vero come dire il vero step up cioè la crescita di qualsiasi cosa tu faccia quindi è importante avere contatto persone peraltro ricordiamoci il discorso del tartufo ora per fare in modo che le persone poi si parlino bene che abbiano l'ambiente adatto con cui parlare glielo devi costruire ora che questi siano muri piuttosto che finanziamenti piuttosto che sostegno per lo studio sostegno per andare alle conferenze imparare ancora di più ecco questo non lo so ma sono questioni di infrastruttura quindi tu devi dare alle persone la capacità di avere un'infrastruttura che gli consenta poi di dare il loro valore pieno e quindi anche qui arriviamo ai famosi discorsi infrastrutturali che tanto si dice secondo me in Italia con col fatto adesso di questi fondi che ci arrivano alla comunità europea io una bel pezzo li darei a migliorare le infrastrutture di qualsiasi tipo le infrastrutture sono che ne so io la rete veramente veloce che raggiunga un po' tutti ha le infrastrutture che ne so io acqua elettricità quelle cose proprio basilari che devono essere assolutamente al top ecco queste sono le condizioni al contorno che consentono poi alle persone a questo proposito ho ottenuto io mi sto impegnando molto nel capire quali sono le condizioni al contorno che permettono alle menti di avere delle idee al full micotone perché sono molto coinvolto con il Milano Innovation District in mind che è stato costruito sull'area expo quindi abbiamo più di un milione di metri quadrati da costruire tra virgolette per creare quell'ecosistema che dicevo prima e quindi io mi sono impegnato in prima persona io sono il chairman dello strategic committee di mind eccetera la mia strategia è quella di far venire tutti le grandi imprese ma grandi grandi tipo Enel e le imprese di medie dimensioni fino alle imprese di piccole dimensioni ora a proposito del discorso che faceva prima che si faceva prima Alfredo Maglione Alfredo sì Alfredo che faceva sul discorso delle piccole imprese eccetera io ho fatto anche nel passato il chairman dello strategic committee del fondo strategico italiano allora uno dei nostri goal come fondo strategico italiano era quello di aggregare medie imprese per farle diventare grandi quello è stato il compito più difficile che abbia mai avuto in vita mia perché per convincere le persone in Italia a fondersi per creare qualcosa di più grande di due realtà è come cavare i denti cioè è una cosa praticamente impossibile e soprattutto anche questo questo cioè c'è proprio la mentalità che io è mio la roba come direbbe verga nei malavogli la roba è mia quindi non la voglio mettere al fattore comune ora se consideri che per esempio Cadence è diventata quella che è diventata anche attraverso 100 acquisizioni dicasi 100 merger acquisition e si capisce subito la differenza se voi vedete per esempio Google quante imprese al mese compra vi rendete conto che il fatto di unirsi di diffondersi è un modo per crescere non è necessariamente che uno da zero tutto da solo deve fare mille ma mettendoci insieme con le aziende simili crei la critical mass la massa critica che ti consente poi di fare le grandi imprese di creare un un sistema economico molto più forte che se tu vai con le medie imprese insomma da sole non dico che tutto deve essere grande ma certo grazie e fra il resto perché in una tua risposta sulle infrastrutture c'è già molto su cui si può lavorare con l'assessore Spinelli quindi chiedo alla regia se mi dà diciamo il collegamento diciamo con la stanza di presidenza dovrebbe esserci l'assessore Achille vediamo tutto a posto ci siamo perfetto hai sentito molte cose che credo ti siano fiscate le orecchie no in positivo parte della mia domanda è nella risposta sul tema delle infrastrutture diciamo che ha fatto Alberto quindi la mia domanda era cosa può fare il Trentino per favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità e anche una battuta sulla nostra forza come territorio competitivo che sono i centri di ricerca che sono al nostro interno siamo una regione piccola però molto molto significativa da questo punto di vista tu che rappresenti il mondo diciamo dell'innovazione una tua battuta e ti ringrazio e sono onorato di rivederti grazie 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 dell'invito buonasera a tutti saluto il professor Vincentelli è veramente interessante partecipare a questo incontro perché è un momento di apprendimento anche per me preciso non sono politico di estrazione ma sono un commercialista quindi un affiancatore di imprese in Italia e quindi capisco benissimo anche i dubbi che il professor Vincentelli pone rispetto alla crescita alla nascita e alla crescita di start up innovative qui in Italia rispetto al modello americano è un mondo diverso chiaramente anche il concetto di fallimento è molto diverso in Italia il fallimento è quasi una condanna definitiva in America il fallimento è solo una tappa di crescita per arrivare poi a una successiva occasione di sviluppo e di innovazione abbiamo differenze insomma molto importanti chiaramente anche come ente territoriale abbiamo necessità di riferirci a quello che è l'impianto normativo che la nazione italiana ci pone potendo però garantire con l'autonomia alcune competenze specifiche alcuni fondi da destinare con maggiore intensità alla fase di ricerca e innovazione sul nostro territorio alcune considerazioni che sono state fatte sicuramente le condivido a dire la verità quelle che ha posto il professor Vincentelli e condivido totalmente altrettanto quello che diceva il nostro territorio purtroppo vive di un nanismo il nostro territorio intendo Italia in questo caso e poi per evidentemente anche trentino vive di nanismo imprenditoriale proprio per una natura di un mercato molto più ridotto molto meno competitivo da questo punto di vista rispetto a quello statunitense che ha il mondo come cliente abituale tuttavia cerchiamo appunto proprio per forti centri di ricerca come diceva il dottor Garofalo e per un'università prestigiosa che comunque è forte nella ricerca di base nelle materie scientifiche riusciamo a fare più squadre riusciamo a essere penso competitivi anche riconoscibili a livello nazionale se non internazionale nella capacità di essere attrattivi proprio su questo i nostri centri di ricerca che hanno un grande prestigio anche internazionale come fondazione Bruno Kessler fondazione Edmund Mack possono vantare appunto molti ricercatori che vengono anche dall'estero si formano qui in Trentino e riescono a produrre risultati molto apprezzabili il Trentino è il territorio italiano con la più alta intensità di start up innovative questo chiaramente non dice molto circa poi la capacità di queste di crescere e diventare dei campioni sul mercato è importante però come dato indicativo di un territorio che crede investe in questa attività soprattutto rivolta ai giovani non solo ai giovani chiaramente ma a chi ha capacità di provare un'innovazione di tentare di uscire sul mercato con un'attività economica che possa essere di sicuro successo si spera i nostri centri di ricerca li ho citati abbiamo però la capacità è stato citato anche precedentemente in alcuni punti del nostro territorio di creare più massa critica di creare più collaborazione più squadra di fare sistema e sono i nostri poli tecnologici della mecatronica per esempio il roveretto e della manifattura centri dove si crea quell'ecosistema di cui si parlava all'inizio quella contaminazione tra diverse competenze dei soggetti che sono in questi centri coinvolti quindi noi pensiamo che il Trentino sotto questo aspetto possa essere possa rappresentare un soggetto che come entità pubblica può contribuire a sviluppare idee innovative chiaramente abbiamo pensato e riprogettato un po' il percorso dell'investimento in ricerca e sviluppo da quando mi sono insediato circa due anni fa abbiamo cercato di fare più sistema di mettere a sistema tutti i fattori e tutti i soggetti che lavorano nell'ambito della ricerca sto pensando a Trentino Sviluppo sto pensando a Hub Innovazione Trentino all'Università di Trento abbiamo creato un percorso che si chiama Trentino Startup Valley che mette appunto a fattore comune tutta una serie di assistenze e contributi rispetto alla vita delle nostre start up quindi il Trentino crede in questa funzione di spinta sulla ricerca sull'innovazione crede nei giovani la loro possibilità di essere se competenti e con idee innovative essere attori sul mercato e magari con un aiuto in più che il sistema può dare un aiuto di aumento di competenze manageriali e di capacità appunto di proporsi a un mercato sempre competitivo grazie assessore Spinelli credo e lo chiedo sempre alla regia e poi che sia pronto anche per una piccola riflessione sui numeri e i dati esattamente come abbiamo fatto la prima puntata con la task force diciamo di tutto quello che riguarda il mondo confindustriale Trentino il direttore Busatto dovrebbe essere diciamo collegato perfetto lo vedo ora vediamo se lo sento sì quindi volevo chiederti con la tua solita bravura diciamo e sintesi mentre l'altra volta abbiamo parlato del fatto in una situazione di crisi il fatto per il mondo diciamo dell'innovazione progetti e attività in corso fatti a te la parola direttore sì grazie Alessandro buonasera a tutti anche da parte mia sicuramente riprendendo anche un po' il titolo dell'evento di oggi come confindustria riteniamo che il ruolo dell'innovazione sia strategico per le nostre imprese soprattutto per farle crescere riprendendo un concetto che oggi Vincentelli ha ben espresso abbiamo messo in piedi come associazione una serie di attività soprattutto negli ultimi anni puntando molto sull'innovazione soprattutto dei processi all'interno delle nostre imprese oggi anche per non rubare tempo non sto qui a fare un elenco delle cose che facciamo ma mi preme raccontare un'esperienza che stiamo facendo e che così poi vorrei sentire anche faccio quindi in questo modo una domanda anch'io ad Alberto Vincentelli cosa mi pensa di questo approccio che abbiamo voluto introdurre noi tre anni fa abbiamo partecipato e costruito nel nostro territorio alla rete di Digital Innovation Hub creati da Confindustria quindi abbiamo creato a livello regionale anche se poi abbiamo una sede a Trento una sede a Bolzano un Digital Hub cos'è che serve il Digital Hub il Digital Hub è una rete nazionale diciamo per la digitalizzazione che deve aiutare la digitalizzazione delle imprese cos'è che fa ci sono anche delle slide non so se la regia riesce a mettermele eccola qui le principali attività non mi soffermo ma giusto per fare una carellata l'obiettivo è quello di sensibilizzare sui temi della digitalizzazione le imprese quindi aiutandole anche a far la formazione essere di supporto anche all'accesso e quindi ad accedere agli strumenti finanziari questi possono essere di natura provinciali ma anche di natura europei insomma o privati abbiamo cercato anche di mettere in piedi un orientamento per le imprese verso l'ecosistema dell'innovazione ha parlato bene prima l'assessore citando quante centri di ricerca ci sono nel Trentino però non sempre le aziende sono propense a utilizzarle o spesso non li conoscono nemmeno e quindi ci siamo dati un ruolo di facilitatori la cosa che però mi interessa di più spiegare è l'assessment che stiamo facendo per misurare la maturità digitale delle imprese quindi partendo dal concetto che come diceva Vincentelli l'impresa del futuro dovrà essere sempre più digitalizzata noi abbiamo messo in piedi un servizio e su questo devo dire lo facciamo utilizzando anche degli esperti e su questo ci avvaliamo anche e ringrazio l'assessore qui presente per il supporto che ci dà anche IT quindi l'Hub di Innovazione Trentina su questo progetto che ci permette di entrare nelle aziende e di andare a fare quindi attraverso un questionario proprio un'analisi qualitativa di come è organizzata l'impresa questo per andare a vedere quanto i processi di digitalizzazione sono entrati nelle varie nelle varie aree o nei vari macro processi quindi questo si va ad analizzare la produzione la progettazione dalla logistica alla supply chain ma anche ad esempio alla manutenzione ecco uno degli aspetti che spesso non viene evidenziato preso un po' sotto gamba da tante aziende è proprio quello di dedicare risorse e anche molta attenzione alla manutenzione pensiamo solo alla manutenzione predittiva che può dare invece dei grossi risultati per un'impresa fino ad arrivare anche agli aspetti più organizzativi e arriviamo quindi anche all'analisi organizzativa sulle risorse umane questo perché facciamo perché lo diceva prima Vicentelli spesso l'imprenditore non ha tempo è preso dalla quotidianità e quindi quello che noi suggeriamo è di fermarsi un attimo di fare un'analisi dove noi possiamo dargli anche un aiuto entrando nell'azienda questo è visto che ho dei ci sono molti imprenditori collegati mi fa piacere ribadirlo e anzi invito tutti quelli che magari non hanno ancora contattato i nostri uffici a farlo perché è un servizio totalmente gratuito che diamo per tutte le aziende associate dove con una due tre giornate dipende dalla dimensione dell'azienda ci impegniamo noi con questi esperti a fare questa analisi una volta fatta questa analisi noi diamo un risultato dove possono emergere i punti di forza ma anche di debolezza dell'azienda poi sta all'imprenditore trovare delle soluzioni spesso anche su questo ci chiedono magari di dare una mano e quindi sempre attraverso anche la nostra società di servizio dove abbiamo negli ultimi anni anche inserito dei bravi consulenti li chiamo così perché servono persone con esperienza per dare una mano agli imprenditori possono nelle varie aree dove magari sono emerse dei punti di debolezza far crescere l'impresa ecco penso che questo sia un modo per dare una mano all'imprenditore che spesso voglio dire non è abituato a fermarsi a riflettere perché la quotidianità il dover fare prevale però ogni tanto probabilmente bisogna guardarsi dentro guardare l'attività per poi cercare di migliorarla devo dire che le tanti tanti assessment che abbiamo fatto finora hanno portato a casa buoni risultati per gli imprenditori e quindi uso anche questo mezzo per ribadire quanti non l'hanno fatto di contattarci per poter anche usufruire di questo servizio grazie a te la parola Alessandro grazie direttore confermo diciamo quello che hai detto non posso fare nomi e cognomi una grande diciamo azienda diciamo italiana due anni fa siamo precisi fece fare una cosa del genere diciamo all'interno sull'assessment delle soft skill dal punto di vista digitale agli 80 diciamo personaggi di riferimento risultato 80 bocciati non avevano superato tra virgolette tanto per dire quindi per dire quanto è importante quello che ti ho detto e il servizio che hai lanciato allora nota di servizio perché cambio le regole che chiaramente sono le 19-10 sapete che sono maniaco delle puntualità dei webinar che devono essere brevi quindi adesso invece che fare le mie domande creative diciamo ad Alberto ho le domande del pubblico quindi i ragazzi che lavorano con me ne hanno selezionato diverse quindi Alberto avrà intenzione di fare questo e te ne leggo alcune però mi devi dare risposte di secondi non dico sì e no cioè dobbiamo essere diciamo brevissimi e ci proviamo perché ci tenevo a valorizzare quelle del pubblico che le mie e semmai io chiudo con una nota di musica classica e dopo ne parleremo darò la parola di conclusione al presidente e che lo guardo negli occhi con aria amichevole in pochissimi secondi diciamo farà la chiusura e poi lanceremo il video della collega universitaria che farà il webinar diciamo la prossima puntata e poi abbiamo terminato quindi vado subito perché mi piace privilegiare il pubblico sono domande interessanti allora Andrea Grosselli chiede Enrico Moretti ha scritto che l'innovazione premia le aree metropolitane un territorio piccolo e periferico come il Trentino sembra quindi svantaggiato è davvero così? il covid può cambiare questo scenario? ci sono evidenze magari da esperienze americane di piccole comunità in aree non metropolitane capace di agganciare i processi di innovazione descritti? una battuta ma direi che è una bella gara nel senso che se noi guardiamo nel passato le aree metropolitane decisamente sono quelle che consentono quella comunità che poi fa nascere le idee e più diversità c'è meglio è quindi se sei una piccola comunità per definizione c'è poca diversità quindi è difficile e poi fra il resto del territorio parleremo con la tua collega la prossima puntata proprio su questo altra domanda è proprio specificato per il dottor Vincentelli quindi è scritto non è che noi le allocchiamo a voi a seconda delle comodità te la leggo cosa ne pensa dell'articolo uscito qualche giorno fa sul Guardian scritto quasi interamente dall'intelligenza artificiale GPT-3 che non è la GP è un loro spin-off quindi l'intelligenza artificiale che si mette a scrivere beh è senz'altro possibile perché poi uno può mettere insieme dei pezzi secondo una certa logica quindi è senz'altro possibile bisogna vedere quanto è creativo quel pezzo scritto quindi può dire delle cose molto sensate mettendo insieme i vari pezzi che ha trovato nei articoli precedenti perfetto altra domanda di Nicola Filippi che ti ringrazia grazie per il tuo prezioso intervento secondo lei riusciremo ad avere un congruo dibattito con commissioni etiche prima dell'ingresso di device simili a quello che ha detto lei di Neuralink di Musk e di altre promettenti tecnologie integrabili con il corpo umano? beh senz'altro c'è tutti i dispositivi elettronici che vanno dentro il corpo umano così come le pillole e altre cose devono essere come dire benedette da commissioni che dicono che non fa male questa è la prima cosa la seconda cosa ma è etico fare ciò o no secondo me la questione etica è molto pelosa perché si presta anche a come dire storture o distorsioni quindi veramente bisognerebbe avere qualcuno che di etica se ne intende e lo fa secondo quelli che sono veramente principi etici non sono principi di comune intesa ok Fernando Mattias Sampò per il futuro secondo lei professore è più importante avere delle conoscenze in ogni campo oppure essere specializzati in uno solo? adesso la dirò grossa cioè la cosa fondamentale è avere conoscenze ampie perché come fai a comunichare con un'altra persona in un settore diverso dal tuo per creare qualcosa di nuovo però se hai soltanto una conoscenza superficiale non vai da nessuna parte quindi devi avere una formazione di base che copre un po' tutto e poi però devi carotare su un qualcosa di ben preciso quindi è una combinazione in realtà grazie io direi l'ultima sono molte però il tempo poi diciamo e tiranno quali sono da Silvio Antonioni quali sono i principali temi di collaborazione di ricerca e sviluppo che le PMI del territorio secondo lei potrebbero avviare ed investire per avere un ritorno nel breve medio il punto base è vedere chi è che ha le idee perché insomma più che dire andiamo a pescare anche questo questo suona molto di pianificazione la pianificazione è contraria all'innovazione quindi torno a ripetere bisogna vedere quello che il territorio offre e poi scegliere per quello che il territorio offre il territorio inteso come insieme di persone che gravitano intorno all'università di Trento l'università di Bolzano insomma il territorio esteso perché Bolzano non è propriamente trentino ma fa sempre parte di un territorio vicino quindi andare a pescare lì e poi vedere se ci sono delle iniziative che hanno senso fatte nel Trentino ora ahimè Trentino da una parte agricoltura che va benissimo e dall'altra però è molto basato anche sul turismo e quindi il turismo in questo periodo dura assai quindi io in questo momento storico mi butterei molto su tra virgolette la tecnologia applicata all'agricoltura agricoltura intendo anche vini e compagnia cioè agricoltura in senso stesso certo ho visto ricerche interessanti all'istituto quando c'è Cingolani all'istituto italiano di tecnologia nel rapporto con l'agricoltura anche per la semina sulla biodiversità che erano molto interessanti io all'IT ci sono stato dieci anni nel board quindi lo conosco benissimo benissimo grazie anche di questo allora però resta sempre in linea perché poi ho la chicca finale per te allora adesso le regole del gioco al presidente la chiusura e quindi diciamo un tuo parere diciamo sulla giornata poi prima di mandare in onda il video in cui lasciamo poi il pubblico dando l'appuntamento della prossima puntata che anticipiamo sarà il 24 novembre l'ultima così battuta per il professore che è la mia arma l'asso della manica finale presidente a lei la conclusione beh intanto io sono particolarmente soddisfatto dell'obiettivo raggiunto oggi cioè io rammento che questo che questi incontri avevano hanno lo scopo di formare gli imprenditori per cui aprire la mente degli imprenditori riuscire a contaminare ad arrivare a stimolare qualche imprenditore per qua abbiamo sentito parlare di insuccesso abbiamo sentito parlare di di fallimento connesso al successo l'approccio diverso tra gli Stati Uniti e il nostro abbiamo sentito parlare della più grande della più grave impresa cioè quella di aggregare imprese PMI italiane roba mia no? sono temi temi e parole importanti che devono secondo me scuotere il singolo imprenditore l'obiettivo deve essere per noi la crescita e per questo cioè credo che questa questa seconda tappa di questo nostro percorso sia assolutamente centrata e noi si abbia centrato l'obiettivo cioè sono arrivati così tanti stimoli che sono certo che qualche imprenditore farà delle riflessioni nasceranno nuove imprese si avrà più coraggio a valle di questi di questi incontri e a valle di questo in modo particolare grazie professor Vincentelli grazie a tutti per aver reso possibile questo questo bellissimo momento e rilascio la parola ancora al nostro conduttore la nostra valletta non si vede cosa ho sotto ma che piero notevoli non ci sono le cineprese sotterranee bisogna dire alla regia poi anche il backstage allora a parte le battute ecco l'altra volta Alberto ho dedicato diciamo un intermezzo diciamo jazzistico con Parker sul tema diciamo sulla improvvisazione io invece per te ho preparato una riflessione musicale chiedo alla regia di mandare in onda quel piccolo sonoro proprio ecco perché questo per me tu sei Mozart non so le tue preferenze poi magari ce li direi dopo ma perché Mozart io mi sono analizzato Mozart Bach Brahms ma Mozart ha coraggio nella musica la curiosità l'innovazione il cambiamento è il concetto dell'esploratore del genio multiplo tu per me sei un genio multiplo a 360 gradi ti ritrovi o ho cannato diciamo completamente beh naturalmente io non mi ritrovo nella definizione di genio per me è un attimo più non me la sento addosso però senz'altro quello che ho tentato di fare in tutta la mia vita è quello di mettere insieme le conoscenze di tanti punti di vista e secondo me questo è quello che tra virgolette mi motiva di più è quello di cercare qualcosa di nuovo anche interagendo con colleghi di settori completamente diversi che come avevo detto prima cioè insieme tento di non solo di predicare bene ma anche di razzolare bene certo grazie so che tu ami mi pare Brahms giusto Bach però però Bach è una diciamo è un'intelligenza disciplinata nella musica tu sei di più perché è questa secondo me questa verve creativa istrionica che per me è più Mozart però ne parleremo in separata sede beh innanzitutto torno a fare il serio spero che hai apprezzato anche questa analogia musicale ti ringraziamo tantissimo di aver dedicato il tempo a noi ai nostri studenti ora le note di servizio chiudiamo lanciando un micro video che dura veramente due minuti in cui la professoressa Alessandra Fagian parlerà del tema che tratterà il 24 novembre che è periferie resilienti opportunità e sfide post covid quindi mandiamo regia il video e dopo ci salutiamo state vedendo anche la sequenza diciamo delle puntate ma l'ho detto a voce quindi 24 diciamo novembre e 26 gennaio il prossimo appuntamento che comunque trovate anche nel sito mi taccio saluti a tutti ci ascoltiamo diciamo l'abstruck del prossimo incontro e arrivederci a tutti e grazie di essere stati collegati con noi prima di tutto mi fa molto piacere essere con voi e non vedo l'ora di potervi parlare del mio tema il 24 di novembre quindi grazie dell'invito io mi chiamo Alessandra Fagian sono un'economista regionale ho vissuto per tanto tempo in America e mi sono sempre occupata diciamo di periferie quindi delle aree un po' meno centrali e il 24 di novembre vi parlerò di periferie resilienti e in particolare visto che abbiamo avuto questa esperienza del covid nel 2020 mi soffermerò sulle opportunità e le sfide post covid innanzitutto quando parliamo di periferie resilienti stiamo parlando di contesti che sono tendenzialmente sottoposti a questi processi a me piace chiamarli combustione lenta usando un termine che viene dall'americano perché parliamo di territori che nel corso dei decenni hanno avuto un forte spopolamento invecchiamento della popolazione deindustrializzazione e che quindi richiedono un certo tipo di intervento per riuscire a uscire da questa crisi di lungo periodo parlerò fra l'altro di un concetto appunto quello di resilienza che per me non significa solamente a seguito di uno shock come può essere ad esempio il covid ritornare nella traiettoria di prima ma anche cambiare un po' modificare la struttura di una di un'economia locale per trovare delle nuove traiettorie di crescita e in questo senso il covid può veramente essere un'opportunità creare delle nuove opportunità e anziché tornare allo status quo cercare magari di rimbalzare avanti e di sfruttare le potenzialità che questi territori seppur periferici hanno e che devono essere messi a valore e che ancora non sono pienamente riconosciuti quindi cercherò in qualche modo di darvi magari qualche idea di quelle che possono essere le mie considerazioni su cosa fare in queste aree che sono un pochettino più svantaggiate e sono non beneficiano della centralità come può essere una grande città vi porterò degli esempi ovviamente cercando anche di fare riferimento al contesto locale in cui voi vi trovate e dandovi un po' quelle che sono le mie il mio piccolo contributo le mie piccole idee per il futuro di fare riferimento Grazie a tutti.